Dal 30 luglio al 1 agosto, ad Arco, si svolgerà l'edizione estiva del Carnevale organizzata dal gruppo Costruttori. Tre giornate ricche di eventi per grandi e piccini. Per la prima volta, dopo ben 30 anni, torna inoltre la sfilata dei carri allegorici serale con i carri tutti illuminati, che si terrà l'ultima sera, ma questa volta non nel classico circuito, bensì nelle vie del centro passando per le principali piazze del centro città. Vediamo l'intervista al patron della manifestazione, Mario Matteotti. Carnevale estate 2015, che si svolge ad Arco ovviamente il 30 luglio, 31 luglio e il 1 agosto. Come si svolgeranno le tre serate? Le tre serate, allora, il giovedì è una serata dedicata tutta alla danza, al ballo, con Arco Dance, devo leggerlo perché è Arco 800, Country Whispers, Sopra Latina e Zumba. Poi il venerdì musica con Radio Galena Band, Pausa Merlot e Voodoo Orchestra. Il sabato invece ritorna dopo una trentina d'anni la sfilata dei carri notturna. L'ultima volta è stato fatto però sul vecchio percorso del Viare delle Palme nel 1983, quindi adesso in notturna con i carri illuminati lo riproponiamo il primo di agosto. Il percorso quali sarà? Il percorso è nel centro storico, quindi partendo da Piazzale Segantini, Foro Boario, Piazza Sant'Anna, Piazza Marchetti, Piazza Trenovembre, Canoniche e ritorno Piazzale Segantini. L'ultima domanda, perché i Piazzateri deriva e vengono ad Arco? Prima perché vai a trovarmi a me, quindi è normale che vai a cercare uno che rompe sempre le scatole la mattina e la sera. E poi mi risulta che arriva non è niente quella sera lì, almeno per quest'anno io penso bene di evitare di fare un doppione come l'anno scorso, e diventa i bravi e quindi noi aspettiamo tutti quanti, anzi, ne fa molto più piacere che venissi i rivani che gli accensi, perché in quel periodo gli accensi quasi tutti al mare.